Leg day, leg day, leg day. Quell'allenamento che tutti i palestrati aspettano durante la settimana con ansia, con voglia, ma soprattutto con la paura di questo allenamento, che solitamente è l'allenamento più bello, ma anche quello più faticoso e quello che mette più a dura prova sia il nostro fisico sia il nostro sistema nervoso, in quanto è veramente, veramente tassante se fatto nel modo giusto. Oggi siamo qui in un nuovo voiceover, in particolare il quarto episodio. Sono felice che questi tipi di video vi stiano piacendo, perché comunque le visualizzazioni stanno andando bene, anche il numero di mi piace e i commenti. E come sempre vi invito a lasciare un mi piace su questo video, commentare qua sotto con i vostri esercizi, con il vostro leg day e se avete qualche comunque correzione aggiunta da fare, sono ben lieto di ascoltarvi. Detto questo, oggi andremo ad analizzare quello che è il mio leg day attuale. Se mi seguite avete visto che nella prima sessione di pull, quindi di tirata, che vi lascio qui in alto a sinistra, faccio un richiamo, soprattutto a livello della catena cinetica posteriore, quindi per quanto riguarda i femorali, che sono la mia parte un po' più carente. In questa parte invece sarà un leg day, diciamo tradizionale, quindi il volume sarà equamente spartito tra quale dei cipiti e femorali. Vi ricordo le attrezzature che ho per allenarmi, ovvero una leg extension leg curl, un multi power, un bilanciere libero e purtroppo ancora non ho una pressa e né un axe squat, che dovrebbero arrivare, però ancora non li ho disponibili. Quindi non mi scrivete qua sotto nei commenti perché non fai questi esercizi, arriveranno e li metterò nella scheda ovviamente quando avrò la macchina. Non essendo una palestra normale, quindi una palestra a pagamento, non ho tutti gli attrezzi a disposizione, quindi cerco di adattare il mio allenamento a ciò che ho disponibile. Iniziamo ad analizzare subito il mio leg day. Allora, come potete vedere il mio leg day inizia alla leg extension. La leg extension che ho io è la Maxus, è a carico libero, laterale, e faccio tre serie a carico crescente e ripetizioni decrescenti, quindi un piramidale inverso. In questa macchina soprattutto cerco di controllare la fase eccentrica, che è quella che manca all'attrezzo non avendo il cavo, mentre la concentrica è una fase in cui il carico aumenta via via che alziamo il peso, quindi arriverà la massima forza da imprimere quando il peso sarà alla massima altezza. La concentrica invece la cerco di controllare io il più possibile, comunque è un ottimo lavoro anche a livello di ipertrofia, anche a livello di stimolo proprio a livello del muscolo e a livello di pump. Passiamo poi al primo esercizio al multi power, che vedrete utilizzo abbastanza spesso, sono degli split bulgari al multi power. Perché al multi power? Perché con i manubri dovrei usare molto peso e sarei molto molto più instabile, mentre al multi power riesco a curare l'esecuzione, come potete vedere, andare a colpire in particolare il muscolo quadricipite, che in questo caso voglio andare a colpire. Come vedete è un multi power a passo abbastanza stretto, non è a passo lungo, se no andare a colpire più prettamente i glutei e un po' di femorali. Quindi in questa maniera riesco a isolare abbastanza bene il quadricipite. Un esercizio che è da due o tre mesetti che ho in scheda, mi sta dando le soddisfazioni e piano piano i carichi aumentano, anche se per mantenere un'esecuzione ottima i carichi aumentano molto molto piano. Passiamo poi a questa sorta di hack squat con i talloni uniti, che avrete già visto fare moltissime volte, il famoso l'ha reso plaz, tom plaz, quindi anche il famoso plaz squat, non avendo una pressa su cui farlo con i talloni uniti, rimedio con il multi power. Anche in questo caso utilizzo il multi power soprattutto per dare lo stimolo giusto ai muscoli giusti. Lo potete fare anche con il bilanciere libero, nessuno ve lo vieta, solamente che andrete a coinvolgere tanti altri muscoli, che in questo caso non sono ciò che voglio andare a colpire io. Passiamo poi a un semplicissimo leg car da sdraiato. Lo faccio da sdraiato perché riesco ad avere una contrazione del femorale molto migliore, anche una propria escezione decisamente migliore, del leg car sdraiato, perché questa macchina della Maxus ha un leg car sdraiato che non mi convince più di tanto. Ha la seduta alta, dritta, non inclinata come nelle leg car professionali, e quindi preferisco farlo sdraiato. Come potete vedere ho avuto dei piccoli problemi nell'inserimento del ferma ginocchio, però per il resto veramente un ottimo esercizio. Anche qui va controllato all'eccentrica perché il peso per gravità tende a riportarti in su molto velocemente. Durante l'esercizio cerco appunto di frenare questo movimento. Piano piano poi uno ovviamente si abitua a non avere il cavo come nelle classiche macchine. Passiamo poi a un classico stacco rumeno, quindi gambe leggermente piegate, non è uno stacco a gambe tese. Cerco di andare indietro col culo e con l'anca, questo è il mio pensiero, di avvicinare il mio bacino verso il muro dietro, e allungare il più possibile la catena cinetica posteriore. Un ottimo esercizio fatto in modo controllato, con un'eccentrica dai 2-3 secondi, è abbastanza lenta, normale, e senza strattonare. Quando torno su, infilo il bilanciere e stringo le mele. Quindi, diciamo, do anche un buono stimolo ai glutei, soprattutto nella fase di chiusura. Permette di caricare tanti chili e di, alla fine, avere una tecnica abbastanza buona. Come ultimo esercizio, era da un po' che cercavo un esercizio che mi permettesse di isolare i quadricipiti in modo buono, che non fosse appunto la pressa o la squat che non ho, e quindi ritorniamo al multipower, che, come avete visto in un video mio, non disprezzo, ve lo lascio anche questo qui in alto a destra, perché può essere un ottimo attrezzo, e faccio uno squat classico, dove curo soprattutto l'esecuzione e la lentezza del movimento. Infatti il carico, in questo caso, è abbastanza basso, perché dovremmo essere sugli 80-90 chili, più o meno. Questo è il mio leg day, e adesso provo a spiegarvi un paio di scelte che ho fatto per questo tipo di allenamento, sia per quanto riguarda la scelta di esercizi, sia per quanto riguarda la scelta dei macchinari. Come avete visto dal video, il multipower è uno dei miei migliori amici nel mio leg day ad oggi. È un attrezzo che non usavo molto spesso quando andavo in palestra normale, e avevo a disposizione tutti i macchinari che vi dicevo prima, che però adesso ha riscoperto la sua importanza e la sua utilità. Potrebbe essere usato anche come pressa verticale, ma dovendo caricarci molto rischierei di romperlo, o di comunque maltrattarlo, e quindi preferi scusarlo per questi esercizi. Permette di avere un controllo e un equilibrio, e soprattutto uno stimolo diretto a quel muscolo molto 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 più preciso rispetto a esercizi a corpo libero, diciamo, e quindi permette anche a livello ipertrofico di mandare lo stimolo dove noi vogliamo. Ovviamente ha la sua utilità anche uno squat a corpo libero, ha un'utilità anche un affondo a corpo libero, ma hanno un'utilità diversa. E soprattutto per me, che ho i femorali molto più lunghi della tibia, circa 7-8 cm più lunghi della tibia, fare uno squat al multipower, in chiusura dell'allenamento, per dare uno stimolo, per dare una flusso di sangue al distretto muscolare, è molto molto più conveniente rispetto a fare uno squat libero con bilanciere, che mi porta più problemi del sistema nervoso, di un movimento che non è consono a quella che è la mia catena di movimento, quindi mi permette di utilizzare un esercizio, che altrimenti non utilizzerai come lo squat, in una variante che comunque mi permette di dare un ottimo stimolo. Adesso vi faccio vedere in particolare cosa intendo. Vedete, in particolare questa è la fine del mio femorale e l'inizio della mia tibia. Come potete vedere, la tibia è molto più corta del femorale, e questo mi comporta, con il bilanciere sulle spalle, una cosciata molto sbilanciata in avanti. Un conto è fare uno squat senza peso, un conto è farlo con 130-140 kg. Mi comporta una cosciata molto più difficoltosa, molto più a rischio e infortuni, e soprattutto molto meno focalizzata su quello che è il coinvolgimento del quadricipite. Per questo ho tolto lo squat dalla mia programmazione, perché comunque andava a colpire una parte e un settore che in questo momento non mi serve, e soprattutto mi metteva a rischio infortuni e soprattutto mi consumava l'energia del sistema nervoso che possono essere spese in un altro modo. Quando arriverà la pressa e quando arriverà l'hack squat, allora quel punto verrà sostituito con questi esercizi, che mi tornano molto molto meglio per quella che è la mia conformazione corporea. Quindi ecco spiegato perché non c'è uno squat nel mio leg day. Non è niente di particolare, ecco. Detto questo, direi che anche questo voiceover è giunto alla sua conclusione. Spero che questo video, anche un po' più dettagliato su quelle che sono le mie scelte, vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da dirmi, consigliarmi, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mettete un mi piace a questo video e iscrivetevi a questo benedetto canale, perché l'85% di voi non si iscrive. Fino a che non vi iscrivete tutti io continuerò a dirvelo. Quindi se non volete che vi rompa i coglioni, o vi disiscrivete, oppure vi iscrivete al canale. È molto semplice, è gratis e a me dà una grossa mano. Detto questo, come sempre, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video sul canale. Ciao! Grazie a tutti.